Buona qualità tecnica, poi è un po' diverso, tu non cambia un atteggiamento completo per una gara, strategicamente ma certamente noi dobbiamo prendere cura dell'avversario e prepararci bene. È una finale, noi sappiamo, i nostri calciatori sanno, abbiamo fatto 3-4 giorni di buon allenamento, ancora mancano uno, però noi sappiamo che è una finale. Noi siamo preparati per andare lì, pensiamo solo in Moldavia, 100% ci proviamo a fare il migliore al campo, come fino adesso, come diceva lei, in senso, un percorso importante, è sempre, io penso che il calcio è quello lì, la frase rientra, tutti e due partono per vincere, dopo la conseguenza, ma partiamo anche per vincere, con tutto il rispetto, loro sono forti, non hanno perso una gara ancora qua. Grazie a tutti. 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 Ormai ci conosce, ha già giocato con noi. Abbiamo un'esperienza. Io penso che il vantaggio è no. Lo che mi ricordo da marzo è che era un gironne e che il riparto di Ponto secondo me andava forte. E sta succedendo. Ancora siamo a novembre, ancora abbiamo quattro squadre che sono in guerra, in lotta per prendere punti e andare avanti. Noi siamo una di quelle lì. È vero che fino a qui stiamo facendo molto bene, siamo bene, a posto, non è finita. Siamo conscienti di no, che abbiamo ancora tanto da fare. I domani andiamo a gara 90 minuti al giocare una finale. Penso che un vantaggio no, però per un'altra parte il vantaggio è arrivare qua in condizione di potere qualificarci. Questo è un vantaggio, però dopo si deve giocare. Per un'altra parte il vantaggio è arrivare qua in condizioni di potere qualificare. Per un'altra parte il vantaggio è arrivare qua in condizioni di potere qualificare. Non possiamo dire che siamo primi, ma ci sono 4 scuadri che si lutano per un risultato buono, ma ci sono molto difficili, speriamo che tracchiamo un risultato buono, ma ci sono molto difficili.